Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come personalizzare al meglio la barra delle applicazioni su Windows 11 ovviamente per quelli che vogliono mettere un'applicazione sulla barra, tu basta che clicchi la tua applicazione, per esempio Epic Games Launcher io ci clicco sopra, aggiungi alla barra delle applicazioni e come puoi vedere ho aggiunto così un'applicazione che uso tutti i giorni sulla barra delle applicazioni e per rimuovere questa barra tu basta che fai il tasto destro sopra, rimuovite la barra delle applicazioni poi una volta fatto possiamo anche personalizzare così la barra delle applicazioni, tipo invece di stare al centro possiamo metterlo a sinistra se tu ci clicchi sopra, tasto destro sulla barra delle applicazioni, impostazione della barra vai su comportamenti della barra dell'applicazione, nascondi automaticamente la barra dell'applicazione, nascondi così la barra e per mostrarla tu basta che trascini così il cursore, l'icona della freccia qua sotto allineamento barra dell'applicazione al centro a sinistra come su windows 10 mostra i secondi nell'orologio della barra dell'applicazione, per esempio qui c'è solamente ore e minuti possiamo anche mettere i secondi, ok? una volta fatto torna indietro, vai su personalizzazione, vai su temi, impostazioni delle icone del desktop qui puoi cambiare l'icona alla tua applicazione, tipo questo pc cambia icona e puoi mettere qualsiasi icona che vuoi poi sulla barra delle applicazioni, per esempio se c'è un'icona qua sopra tu sempre su altre icone della barra delle applicazioni per esempio un programma che uso per boostare l'audio, fx sound io metto attivato e come puoi vedere mostro così l'icona sulla barra delle applicazioni invece di nelle icone, ok? quindi se questo video ti è stato utilissimo su come personalizzare al meglio la barra delle applicazioni iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!